E voleva il cellulare? Ok, cominciamo a girare, vai. Non gliel'ho data di sancazza o di sancazza da te? Dai, continuo, continuo, continuo. Ecco che parte, comincia a rallentare. Centro del peso, comando esterno, un pelo. Ora li metto dentro il peso piano, 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 piano. Esci all'esterno, comando esterno, comando esterno, comando esterno, comando esterno, comando esterno. Eccola che è uscita. Benissimo, preparati col destro, ora, lì. Benissimo, basta. Vieni dentro verso il... Ma che bravo, sono le gambe spalangate. Hanno detto, beh, bravo però. Non sapevano quanto ti sei cagato a dorso durante questi 10-25-6 giri. Ci sono, si fermava più, bellissimo. Adesso fa l'eroe, fa. Adesso che fermo, lo dice però. Poi magari controlla il pettorale a che distanza stava. Ciao, poi ciao. Dicono anche le mutande. C'ho una voglia proprio. C'è una voglia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Che vuoi fare? Perché questi continuano tutti a andare su. Che ore sono? No, è il sì, va finito. Sono le 4-10. Facciamoci un giro su, torniamo subito. Abbiamo la griglia che tra l'altro serve per stasera.